La provincia di Teramo sta vivendo una crisi occupazionale tra le più gravi dal dopoguerra. Le risorse del Recovery Plan possono rappresentare una concreta opportunità se indirizzate ai giovani, alle donne e alla coesione territoriale. Lo ribadiscono forte la Cigelle, la Cisle e la Will di Teramo che chiedono alla politica di mettere al centro la persona e i suoi bisogni primari, a partire dalla salute, il lavoro, il territorio e l'ambiente. Oggi abbiamo un'occasione storica e nell'occasione storica bisogna fare massa critica, fare sistema. Noi diciamo che bisogna mettere in campo una governance che analizza la realtà di questo territorio e prova comunque sia poi a costruire una progettualità che non solo è digitalizzazione, quindi modernizzazione, non solo è transizione ecologica. Ci dicono inclusione e poi dicono una cosa aggiuntiva. Ogni progetto deve in qualche modo misurare, saper misurare, quindi non basta solo il progetto faccio il ponte, faccio un esempio. No, deve saper misurare veramente qual è in qualche modo il vantaggio che ne hanno i giovani, che ne ha la coesione sociale e che ne hanno anche le donne. Quindi questi sono indirizzi che a nostro avviso devono in qualche modo essere sempre sottolineati e ricordati in ogni pratica con progettuale. Per quanto riguarda poi la qualità della vita, Teramo è anche l'ultima provincia della regione Abruzzo. È al 76esimo posto, con 20 posizioni in meno rispetto al 2019. Quali sono le vostre proposte, ma le più importanti per poter superare questa crisi sul lavoro soprattutto? Noi vogliamo vedere, infatti, delle opere, tipo le infrastrutture, rivedere la sanità, avere la possibilità di rilanciare un'industria, specialmente la Vibrata, che sta soffrendo enormemente. Così come abbiamo bisogno di formazione e di digitalizzazione, che diventa il futuro di questa realtà. Qual è la posizione della CISL in questo momento di crisi? È una posizione che mira intanto a valorizzare tutto quello che ruota intorno alla formazione, che mira a riqualificare tutti coloro che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro. E purtroppo in questa provincia, soprattutto in alcune zone di questa provincia, ne abbiamo diverse centinaia. Quindi dando una formazione che mira a ricollocare, una formazione che mira a riqualificare, una formazione che dia la possibilità a coloro che ancora operano all'interno del mercato del lavoro, di non correre i rischi che hanno purtroppo vissuto altre persone in precedenza. Si tratta di farsi trovare pronti con quelle che sono le nuove sfide, con la digitalizzazione. Per poterlo fare bisogna appunto avere le conoscenze e le capacità adeguate.